Benvenuti nel canale spettacolo 24. Canale di intrattenimento attraente e interessante. Virginia Raffaele e Claudio Baglioni sono fidanzati? Un selfie dei due divi ha fatto impazzare il gossip, leggi i dettagli. Udite udite, gossip succulento in arrivo. Virginia Raffaele e Claudio Baglioni sono fidanzati. Il gossip è impazzato sul web nelle ultime ore, ma è tutto vero? Leggi anche, Michelle Unziker e il nuovo fidanzato Giovanni Angiolini non si nascondono più, foto bacio in Sardegna Virginia Raffaele e Claudio Baglioni sono fidanzati? Virginia Raffaele e Claudio Baglioni hanno letteralmente oscurato il gossip della storia d'amore fra Paola Di Benedetto e R. Comi. La comica romana e il cantante sarebbero fidanzati, secondo quanto si apprende sul web, ma è tutto vero? A far impazzare il gossip ci ha pensato un autoscatto dei due divi alla terme di Caracalla accompagnato da un cuoricino. Foto, chiocciola Virginia Raffaele, i.g., cosa c'è di vero in questa storia? Virginia Raffaele e Claudio Baglioni non sono fidanzati. Il fatto quotidiano, raggiungendo fonti a loro vicine, ha fatto sapere che il gossip non regge. Chi è la compagna del cantante romano? Claudio Baglioni e Virginia Raffaele non sono fidanzati e ormai questo è appurato, il noto cantante romano, da anni, è sentimentalmente impegnato con Rossella Barattolo. I due stanno insieme dalla fine del matrimonio di lui con la prima moglie Paola Massari. La sua attuale compagna è nata a Taranto nel 1958, ma ha trascorso la sua infanzia fra gli Stati Uniti e il Regno Unito, per anni è stata la manager di una multinazionale che gestiva petrolio e in seguito è stata assunta come collaboratrice personale dello stesso Baglioni. Baglioni e la Barattolo seguici su Instagram cliccando qui. Grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione per farci discutere di seguito. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video, ciao!